Buongiorno, terza tappa comune che ci riporterà a Monte Carlo, lasceremo Valance, qui le vetture sono incolorate per la partenza, forte vento, giornata uggiosa e quindi torniamo volentieri quello che è la costa azzurra, nel frattempo vediamo avvicinarsi un altro vipaggio italiano disturbiamo, buongiorno, disturbiamo per due informazioni, stiamo spiegando la tappa di oggi chi meglio di Angelo Senesi, un navigatore, quanti chilometri sono oggi di settore? Sono 420 chilometri e le prove, quanto sono lunghe le tre prove di oggi? le prove circa sui 20 chilometri, 19 minuti è preparato lei? spero preparato il ragazzo? pensavo di vedere le difficoltà e dice sa tutto è sul pezzo come stiamo andando? mi si informa ultimamente abbiamo passato un po' i tempi e ci troviamo, però abbiamo preso le penalità perché abbiamo dovuto costituire un semi-asse e quindi 40.000 penalità alla prima tappa però dopo sinceramente ci stiamo divertendo, la macchina adesso regge e non andiamo male bene, allora ci vediamo a Monte Carlo buon viaggio certo, grazie a te ciao ciao lanciastratos l'Italia ed ecco ormai l'appuntamento qui a quello che è diventata una tradizione da ieri che abbiamo scoperto ieri che c'è questo qui stanno già facendo il briefing allora, come va? siamo pronti per l'ultima, penultima ci stavamo confrontando sui riallineamenti ancora? abbiamo aggiunto almeno 13-14 delineamenti quindi? 200 penalità in più io ce l'ho, tu ce l'hai, manca 200 penalità anche oggi come le figurine come le figurine bene allora abbiamo colazione buongiorno Italia buongiorno Italia, buongiorno Maria buona colazione a tutti prima di tutto volevi scusarmi con tutti l'associazione camperisti francesi perché probabilmente ieri abbiamo messo un po' di paura a due dei loro membri su un bivio praticamente anzi, in realtà era una curva destra Marco mi dice vai dritto era cieco, sembrava uno scollino si vedeva anche un cartello all'ultimo momento vai dritto io sono andato dritto e ci siamo infilati dentro un piazzale di ghiaia con in fondo due signori con un camper e le poltroncine che stavano guardando la gara abbiamo recuperato però questi due insomma sono sono un attimo spaventati cosa dici Marco? beh sicuramente ci sono spaventati perché ti hanno visto uscire i traiettori quindi lo vedrete nel video di ieri e se volete andare a vedervi a vedervi com'è invece qua dietro di me vedo che abbiamo come stiamo andando? dottore come stiamo andando? come va Storelli? ah benissimo andiamo basta girare la classifica siamo a posto ma ti sei bloccata la clessidra? non scende più la sabbia dal cronometro? esatto Andrea lui l'ho perso c'era un problema di sabbia si è infilato un granello troppo grosso proprio come sempre abbiamo agitato scrollato e siamo ripartiti beh c'è da dire che in effetti deve essere un po' di 70 sabbia sulle strade ghiaccio o no ma c'è un sacco di sabbia deve essersi esatto si è aumentato un po' foto ricordo per la Puglia ecco che è arrivato anche Simone vedete questo è l'effetto del cambiamento climatico il rally di Monte Carlo lui è in maglietta maniche corte quindi ecco questo è il cambiamento climatico rally di Monte Carlo di Storic 2024 in t-shirt tra gli equipaggi pronti a partire anche l'equipaggio numero 236 eccoli qua in Monte Carlo è la seconda volta che vengono al Monte Carlo questo è il loro team 15 persone hanno 15 persone come noi come noi esatto il team ufficiale dal Zappone no budget budget cup budget cup ok grazie come sta andando la gara arigato arigato come stiamo? siamo 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 parisi 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 vanno la pekino parigi ok 67 day last day last year you did the coppa d'oro oh yeah i was there i was there ok good luck ok good luck bye guarda qua che strumenti che hanno questo è uno strumento meraviglioso questo sarebbe l'ideale però questo dobbiamo il telecomando c'è una tastierina esatto schiacci metti i metri ok e via è ottimo qui la responsabilità si alza caro mio quindi com'è? hai dormito stanotte? sì abbastanza sì anche se la tensione c'è ovviamente quindi strategia? no guarda io uso come strategia di non cambiare nulla perché stiamo andando bene abbiamo recuperato qualcosa stiamo lottando bene abbiamo visto come fare ma abbiamo migliorato molto anche la gestione guida e correzioni non tocchiamo niente l'ultima notte sarà poi sempre decisiva come saranno secondo te le medie quest'anno? beh sto vedendo che anche su queste prove di oggi non hanno messo medie molto alte la tendenza è a metterle più basse però storicamente l'ultima notte hanno sempre messo medie un po' più impegnative quindi diciamo che soprattutto la 17 con i tornanti in discesa l'ultima parola potrà fare differenza vediamo va bene buon viaggio verso Monte Carlo la mattina è un po' più girato oddio che ci fa la forno Luca Luca senti un attimo ma cos'è? cos'è che c'è in mano? lascia stare quello è in caso di se ci ritiriamo che fa freddo è un po' di uvante cosa faccio? muoio assiderato se mi blocco stanotte sul col del Turinì se riaprono vengono c'è è grappa al fieno però è lì solo per partiamo a 17 per i superstiziosi 10-17 sei superstizioso? no ieri abbiamo fatto o ieri l'altro siamo partiti per la prova una delle prove migliori che abbiamo fatto siamo partiti alle 17-17 ah quindi direi che la tappa inizia la grande sotto i migliori auspici i nostri amici nordegesi mi sa che hanno fatto bisogno ancora? non li avete salvati oggi? basta oggi chissà che colore fumano primo giorno nero secondo bianco non va bene va bene si ha qua il tuo posto il rumorino vorrei fare una citazione famosa ma anche quello del Titanic diceva ma no ma no rumorino da niente basta che non vuoi qualcosa di toscano qua? no no niente qua niente di toscano eccoci arrivati alla partenza della prima prova di giornata c'è un po' di coda ci sarà un po' da aspettare ci sarà un po' di coda Grazie a tutti. Grazie a tutti. La prima sembra andata bene e poi vedremo più tardi quando usciranno le classifiche, intanto prepariamoci per questo. James Bond anche sulla seconda prova di giornata, a parte con gli effetti speciali. 5. Grazie a tutti. 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 due prove, sopra qua quindi salita, discesa vedremo come va a finire c'è anche la nebbia quindi ce la giochiamo alla grande con la nebbia, pare che ci sia la nebbia bella notizia che mi hai dato prima di mangiare quindi ci vediamo dopo cosa c'è da mangiare? cotolette la milanese una roba veramente tipica del luogo di Monaco quindi cotolette la milanese considerazioni sulle prove di oggi le prove di oggi sono andate male le prime due bene la terza direi molto bene noi se devo dire la verità in macchina siamo andati meglio sulle prime due che sulla terza perché addirittura abbiamo preso un furgone contromano ci siamo fermati 5 secondi poi abbiamo recuperato quindi la mia interpretazione dei fatti è che chi ha misurato le prime due prove di oggi non è la stessa persona che ha misurato la terza o al contrario perché c'è qualcosa che non funziona comunque ci vediamo dopo e quindi andiamo a vedere cosa c'è da mangiare eccoci arrivati al punto in cui si consumerà la cena del rally Monte Carlo Historic vediamo qua è già tutto apparecchiato quindi ci mettiamo di fianco a due specialisti della legalità che arrivano dal canton Ticino come è andato questo Monte Carlo? è stato benissimo la parte che abbiamo dovuto cambiare la bomba dei freni cuscinetti anteriore a sinistro cuscinetti anteriore a destra i bulloni che serrano il mozzo che erano molli quindi la macchina c'è ancora la macchina c'è ancora e continua a fare bene bene quindi come è andata a parte di tutti questi problemi come l'avete visto questo Monte Carlo? come gara in generale? a Asciutto l'abbiamo visto quindi una gara da spipper specialisti? la classifica è stretta la classifica è stretta in questo anno effettivamente sull'Asciutto i concorrenti quando è una lotta spietata ma quale sarà il segreto di questa notte? ha detto che forse c'è la nebbia no ma in generale per uno che deve affrontare l'ultima dura 3 o 4 anni fa c'era la nebbia ci sono le auto tutte ferme ne siamo andati abbiamo guagnato 14 posizioni bene quindi hai capito? con la nebbia bisogna andare Marco abbiamo abbiamo una zuppa sembra un minestrone un passato al pesto sento il pesto io no? basilico poi c'è questo cosa sarà? l'antipasto formaggi assia di formaggi qui non si capisce fegato d'oca acqua e un dolcetto c'è anche il vino ma direi che noi ci asteniamo perché dobbiamo attaccare alla grande quindi messo loro che devono solo arrivare in fondo ormai dicono se gli affari vanno male il corpo non deve soffrire come si dice è passato anche il principe che ha dato il via a questa tappa finale del Monte Carlo questo RIC 2024, puoi vedere le macchine pronte a prendere il via si fanno le ultime chiamate a casa, attenzione che ha bisogno di una spintarella partenza spinta è partita stanotte ci partirà 30 secondi una vettura dall'altra quindi sarà veramente una partenza molto rapida rispetto ovviamente alla partenza di un minuto che implica circa 4 ore di di tempo tra la partenza del primo e l'ultimo equipaggio le vediamo ci sono i soliti che fanno le vene di rotta facciamo un po' di backstage per vedere poi da dietro come funziona qui tutta l'organizzazione degli amici di Top Driver TV allora qui ecco siamo ormai sotto il palco tanta gente qui ad assistere alla prova finale nella partenza sulla tappa finale nel frattempo in tutto ciò io devo recuperare i bagagli che abbiamo portato da Valence a qui perché io li ho portati tramite furgone assistenza e adesso devo andare a recuperare i navette perché devo portare i miei bagagli e quelli di Marco in hotel e poi torno qui per la partenza e vi spiegheremo durante la prova mitica del rally di Monte Carlo storico come funzionano un po' gli allineamenti e in pratica come si affronta una prova di regolarità e lo faremo diciamo in diretta dai adesso siamo pronti andiamo a vedere ci vediamo più tardi ciao grazie pronti a partire per la prima delle due prove dell'ultima notte il col del tourini controlliamo le medie inserite allora dalla partenza a 7607 metri 41,80 poi da 7067 a 8672 30 km orari da 7607 a 8672 30 km orari e sarà un paio di attraversamento di un paese poi 8672 19 547 42 km orari quindi le velocità medie sono 41,80 30 e 42 km orari perfetto la prova dopo la 17 la Cabanel Col de Brau la partenza quindi da 000 a 5273 è di 38.7 poi da 5273 a 13.688 è 41.5 quindi le due medie sono 38.7 e 41.5 esatto dopo di che siccome hanno detto che sulla seconda c'è la nebbia quindi probabilmente bisognerà la direzione della gara potrebbe far utilizzare le medie condizioni eccezionali allora a questo punto noi abbiamo inserito abbiamo simulato una prova 17 e una prova 18 per inserire doppie quindi da 0 a 7607 37.6 da 7607 a 8672 30 km orari da 8.672 a 19.547 37.8 dobbiamo guardare anche la 19 esatto la seconda prova esatto a 0. quindi la partenza a 5.273 34.8 e da 5.273 a 13.688 37.40 quindi le due medie sono 34.8 e 37.4 esatto quindi questa è la nostra tabella di marcia diciamo in caso casi normali siamo partiti alle 22.38 e dobbiamo dopo 4 ore 05 e aver effettuato le prove tornare all'arrivo quindi praticamente torneremo alle 2.43 perfetto puoi già scrivertelo qua nello spazio questo è lo spazio osservato al concorrente quindi ore 0.2 43 e 0.0 giusto? perché 0.0.0 perché qui partiamo due vetture al minuto quindi l'ultima notte si parte ogni 30 secondi quindi tornando a noi siamo pronti a partire qui c'è un po' di coda perché ovviamente ancora più del solito perché partendo a 30 secondi ci sono più vetture pronte a partire tra poco partiremo e vi racconteremo come funzioneranno i riallineamenti anzi accenderei già qualcosa adesso Marco allora praticamente dov'è lo start? questo è lo start quindi spiega tu allora queste sono le vignette classiche di un roadbook io mi sono assegnato che allo start quindi a 0 km c'è lo start come da radar il primo riallineamento è a 689 metri dove noi abbiamo ci troviamo sulla destra un cartello con curve pericolose secondo riallineamento 1 km quindi dopo 342 metri da quello di prima esatto traliccio di cemento non è fatto così come sarà? no è proprio un traliccio ah perché tu hai visto i video ero in camera K in camera K altro il terzo riallineamento è a 1 km 569 ed è il cartello di Capita Massi l'altro riallineamento è a 1 km 765 metri ed è un tornante sinistro con un traliccio di cemento e via via così quindi lui quando partiremo io partirò e ogni rilevamento che lui avrà con misura certa lo inserirà con questa tastiera lo inserirà nello strumento che aggiungerà o toglierà metri in base alla strada che ho percorso io e a quella reale quella rilevata durante le recondizioni e la barra qui che avrò davanti e i secondi in ritardo in anticipo cambieranno quindi adesso ci mettiamo in coda perché sennò non partiamo più qui si parte ogni 30 secondi partiremo di noi partita alle 55 e 30 noi partiremo alle 54 55 15 15 14 13 12 14 non serve partire per bruciare il semaforo io di solito parto il secondo di vita adesso c'è un chilometro per portarsi in media, vedete ho 3 secondi e 4 di ritardo, per un chilometro non si è rilevati, devo cercare comunque di evitare tagli, mentre Marco controlla i riferimenti che ha sul campo, vedete ho accelerato troppo e quindi ho 2 secondi di anticipo, rallenterò mentre Marco vi dirà quando riallinea, 250 metri, cartello destra, pura per il colore, per essere in formato, quindi so. Ma è che bisogna accelerare, se ne è rimasto riallineato, se ne è rimasto il secondo non è rimasto il ritardo, non è rimasto 180 metri quindi l'organizzazione comincia a suonare per indicare che ci sarà una zona 30 eccola qua quindi qui 30 e si mira con un pimp il marco adesso è una situazione che mi sembra che siamo proprio fuori dal paese quindi potete dare un riallineamento da una zona di neutralizzazione e poi il marco il ragionato quando terminerà tutto il tempo io andrei e 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 Grazie a tutti. Adesso è finita la prova, ci dobbiamo fermare qui al controllo stop, dove ci sono i commissari, dobbiamo aspettare il loro ok prima, non li vedo, ma andiamo a colla, andiamo a colla del tourini, noi non andiamo a destra, ma ci dobbiamo a sinistra, qui, andiamo a colla del tourini, e la prova successiva. La prova successiva è stata annullata a causa della nebbia, quindi le prove della stava finale finiscono qui, riprendiamo il nostro viaggio verso Monte Carlo, per la Sibo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo alle fasi conclusive, direi che dopo questo arrivo c'è chi ha festeggiato. Qui, come da tradizione, si festeggia, perché si è comunque conclusa per tutti l'avventura di questa settimana, di questo rally di Monte Carlo Historic 2024. Allora, si è conclusa questa avventura nel rally di Monte Carlo Historic 2024, caro Marco, è un momento catartico, è un momento catartico. Di riflessioni, conclusioni, bilanci, insomma, io posso dire che è stata una bellissima avventura. Esatto, una bellissima avventura, abbiamo attraversato comunque dei posti. La nostra amicizia è uscita ancora più cementata. Esatto, anche sull'ultima prova devo dire che ti sei comportato molto bene, hai tenuto duro. Ho tenuto duro. Quindi c'è stato un tratto abbastanza impegnativo, quindi l'ultima prova abbiamo fatto il quarantesimo tempo, mi sembra. Il quarantesimo tempo, mi sembra. L'ultima prova che ci ha catapultato in cinquattottesima posizione assoluta, quindi siamo partiti... Aspettiamo però le classifiche domani. Sì, più o meno, detto. Siamo partiti dalla centocinquantesima penalità dopo la prima prova e abbiamo concluso al cinquattottesimo posto. Quindi direi che io sono soddisfatto. Io anche. E quindi godetevi. Posso farmi i complimenti io? La macchina ha fatto 4.000 km. No, esatto. Dobbiamo fare anche i complimenti al grande Robby perché la macchina è stata veramente la nostra compagna fedele di viaggio. Assieme a Robby, assieme a Paolo. È stata una bellissima avventura che abbiamo fatto tutti assieme. Dobbiamo ringraziare poi anche Alan, Francesco, Simona, che hanno realizzato tutti i montaggi di questi video. Poi, stai dato un attimo che devo fare una cosa che mi ha preso appunto gli amici di Top Driver TV che ci hanno dato questa possibilità. Poi, allora, devo dire le cose con quelli veri. Ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella per i prossimi contenuti video. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.